Buonasera, curiosità personale perché studio economia e ho scritto anche sul bilancio dei principi di questa verità del comune di Zola, una delucinazione in merito alle spese correnti, di come si pensa di coprirle e cosa concretamente, perché da molti investimenti abbiamo la previsione del problema del piccolato e in determinate situazioni si accede lo stesso anche per le spese correnti, ma anche per tutte. Voglio sapere come si prevede di dare copertura a queste spese.